Nel pane, nelle caramelle, persino nella frutta. Può capitare che anche nei prodotti più impensabili si nascondano ingredienti apparentemente vegetali, che però non sempre sono vegani, anzi, sono di origine animale, quindi non adatti a chi segue una dieta plant-based. Ma quali sono e come riconoscerli? Scopriamoli insieme. Pur essendo disponibili anche in versione vegetale, omega 3 e vitamina D sono due sostanze potenzialmente anche di origine animale. Si ottengono, infatti, dal grasso di pesce e dalla lanolina. Olio prodotto naturalmente dalle ghiandole sebacee delle pecore. Non è raro trovarli tra gli ingredienti dei succhi multivitaminici. Cera d'api, estratta dai favi di cera delle api. Può essere usata nei confetti, nel cioccolato o nei chewing gum. Ma anche per rendere esteticamente più attraente la frutta esposta al supermercato, in special modo gli agrumi. Carminio, un colorante di origine animale, ricavato dal corpo essiccato e tritato, nonché dalle uova di cocciniglia, un insetto. È sempre indicato in etichetta anche con la sigla E120 ed è utilizzato perché dona un colore rosso acceso a bevande di frutta o salse, ma anche a cosmetici e pitture. Da una secrezione della cocciniglia si ottiene anche la gomma lacca. Agente di rivestimento utilizzato nell'industria dolciaria, in caramelle, chewing gum, ma anche in infusi, integratori alimentari e caffè. Caseina e caglio, attenzione a questi due prodotti, ovviamente di origine animale. In particolar modo, la caseina è spesso utilizzata per la produzione di cereali per la colazione o del pane in cassetta, ma anche della margarina o di alcuni farmaci. Gelatina, oltre che nelle caramelle, la gelatina animale si può trovare in cereali, yogurt, ma anche in vitamine e integratori, come film che riveste le pillole. Questo prodotto si ottiene dal collagene, proteina del tessuto connettivo delle ossa o della pelle degli animali. Colla di pesce, un ingrediente presente in alimenti insospettabili, come il vino o la birra. Contrariamente da quanto suggerisce il nome, si ottiene dalle cotenne di maiali e dalle ossa e cartilagini di bovini. Nelle bevande aiuta a schiarire il colore del composto. Siero di latte, derivato del latte vaccino, si nasconde in molti prodotti alimentari, ma anche in bevande e alimenti pesportivi. Cereali o prodotti da forno. Infine, occhio anche a strutto, sego e lardo. Questi alimenti, rintracciabili anche in prodotti da forno come le piadine, sono ovviamente di origine animale. Vengono infatti ottenuti dal grasso del tessuto membranoso, dai reni o dall'addome dei maiali. Come sempre, leggere attentamente l'etichetta di un prodotto aiuta ad evitare spiacevoli sorprese. Quando sull'etichetta di un prodotto trovi un marchio di certificazione vegan, significa che questi ingredienti sicuramente non sono presenti. Come Vegan Ok, che si impegna a controllare che queste non siano presenti anche nel packaging, per acquisti davvero completamente vegan.